Permesso, c'è nessuno? Mara, ti stavo aspettando Allora se vi stavi aspettando dimmi che sarà la terza di quelle brave ragazze Vedo una donna a bordo del carro Veramente è un van, ma lei è bionda, guarda come s'androccchia Scopriamo la seconda carta Il sole Ehi, è il sole mio E ora l'ultima carta La ruota Sette, quattordici, tredici, Sant'Antonio, trentadue o capatona Siamo a Napoli allora, che bello Sandra, ho capito Il sole, Napoli, la terza ragazza è Marisa Laurito Quelle brave ragazze, la nuova stagione Prossimamente su Sky Ma dai anche i numeri dell'otto?